Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle. Lasciamo che anche oggi il Vangelo tocchi il nostro cuore, tocchi la nostra vita. E oggi ci viene presentato un capitolo e dei versetti molto forti, molto toccanti. Per questo insieme vorrei invocare lo Spirito Santo prima di ascoltare questi versetti perché sono davvero forti ed è il centro del nostro essere cristiani. Vieni Spirito Santo, infondi in noi la capacità di ascoltare le parole di Gesù che vengono dalla Sua parola perché possono produrre in noi grande e molto frutto. E ora capirete perché ho voluto invocare prima lo Spirito Santo di ascoltare la Sua parola. Matteo 18 dal versetto 21 Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui, con la moglie, i figli e quanto possedeva. E così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ecco, intanto vorrei fermarmi fino a qua. Abbiamo questa situazione in un contesto ecclesiologico perché dal capitolo 18 l'Evangelista Matteo apre in Gesù questo discorso comunitario. Cioè noi cristiani viviamo nella Chiesa e viviamo non da soli, ma con i fratelli e sorelle, coloro che ci manda il Signore. Per questo è bello, per come Pietro si avvicina a Gesù e gli dice Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, e sicuramente parlava di qualcuno dei discepoli, dice quante volte devo perdonarli. Allora gli dice Pietro perché è già visto che Gesù sta andando al di là della legge stessa, sta portando adempimento e quindi ci sono delle novità e cerca però di strapparle delle decisioni. E gli dice Gesù, se un mio fratello, quindi uno dei discepoli, ha fatto qualcosa contro di me, fino a quanto lo devo sopportare e lo devo perdonare. Perché dice dimmi, calcolami, quante volte le dico ti perdono, hai sbagliato ti perdono, ecco fino a sette volte. E allora Pietro ha scelto proprio un numero, nella simbologia, un numero perfetto. Sette volte ti perdono e l'ottava volta basta, mi arrabbio, mi sfogo, eccetera. E noi siamo così, di solito. Dice, guarda, ti ho perdonato una volta, due volte, tre volte, quattro, e insomma basta, sono stufo. E Gesù gli risponde, anche lui in una simbologia, ma una simbologia infinita, settanta volte sette. Ovvero non si calcola settanta per sette, perché non si calcola proprio. Allora Gesù, per farsi capire, racconta questa parabola, in cui questo re faceva i conti con i suoi servi, quello che li dovevano, e trova uno che li doveva moltissimo. E gli dice, per piacere, abbi pazienza, ti restituirò tutto. Il re ha avuto compassione di lui, e non solo ha detto, ho pazienza di te e ti attendo, ma dice, ti condono tutto il debito. Guardate che l'attenzione, Gesù è furbo, intelligente, ma soprattutto sconvolge la nostra mente, e ci dice di non guardare al problema. Cioè, che tuo fratello, la tua sorella, i tuoi amici, commettono delle colpe contro di te. Ma guarda subito alla soluzione, ovvero che il nostro Dio è come questo re, largamente ama, largamente perdona, largamente condona. Ma dire largamente è un avverbio scarso. Infinitamente perdona, infinitamente ama, accoglie. Ecco che Gesù, di fronte a questa espressione di Pietro, o la nostra, che ogni giorno le diciamo, Signore, quante volte devo perdonare mia moglie, mio marito, i miei figli, eccetera, quante volte sono stufo, il mio collega, il mio datore di lavoro, e la suocera, e chi altro. Siamo stufi, e noi contiamo le volte, mettiamo le X, oggi mi hai fatto quello, domani mi hai fatto quello, dopodomani è successo questo, e teniamo duro, e poi quando scoppiamo al marito e la moglie, senti caro, senti cara. Insomma, questa settimana mi hai fatto questo, quello, 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 quell'altro. Allora, Gesù dice, non guardare a questo, ma guarda a quello che tu fai. E quando ti metti alla presenza del Padre, di Dio, come il Padre, nei tuoi confronti, e i tuoi confronti risponde. È come questo Re, che ti dice, quante cose mi hai fatto, segnale, io le ho segnate, ma le ho già cancellate tutte. Quindi, il Padre, ha un amore scandaloso, fratelli e sorelle. Questo aggettivo, ancora non rende, la grandezza dell'amore di Dio, perché noi non siamo abituati, alla gratuità, non siamo abituati alla misericordia. Noi siamo umani, e quindi, tutto calcoliamo. Ho sbagliato, devo pagare, ha sbagliato, lui deve pagare, e questa comunque, è una giustizia che deve esserci nella natura, nella legge, in uno Stato, in una società, ma in Dio, c'è gratuità. Attenzione, non scambiamo, la gratuità, e la misericordia di Dio, col, faccio tutto quello che voglio. Non si tratta di questo, altrimenti, ma, se leggiamo ogni giorno, la parola di Dio, penso che, lo capite anche voi. Prendiamo solo la prima letta, le Corinzi, San Paolo, quando dice, tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Ecco, quindi, non è, non si tratta di fare quello che vogliamo, tanto Dio mi perdona e mi ama. Tanto Dio mi ama, come sono. Si tratta di lasciarsi convertire dall'amore scandaloso di Dio. Se io, come cristiano, non mi converto di fronte a questo amore del Padre, che quando guarda Luca, e tutti i miei errori, pensieri, sentimenti, parole, azioni, e ogni volta mi dice, Luca ti perdono, Luca ti perdono, Luca ti perdono, Luca io ti amo, Luca io ti accolgo. Se io non mi lascio convertire da questo amore, fratelli e sorelle, la mia fede non vale niente. La mia fede è una fede di carta, che si brucia immediatamente, è una fede che scompare, perché io non mi sono convertito dall'amore di Dio. Ecco perché Gesù poi continua questa parabola e dice che questo servo a cui è stato condonato tutto il debito, aveva un altro servo che gli doveva cento denari, quindi poco. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo restituisci quello che devi. E lui dice, abbi pazienza con me te lo restituirò. Ma non volle, quindi lo fece gettare in prigione, finché non avesse pagato l'ultimo debito. E il padrone, a sentire questo, fu irritato. Ha preso il servo e dice, come? Io ti ho condonato tutto e tu non hai condonato il tuo fratello. Fratelli e sorelle, ecco perché ho voluto pregare lo Spirito Santo. Perché queste cose le comprendiamo alla luce dello Spirito Santo. E se non facciamo esperienza dell'amore di Dio, che è scandaloso, e non ci lasciamo convertire dall'amore di Dio, quindi saremo anche noi scandalosi. Perché quando io dirò a mio padre, a mio marito, a mia moglie, al mio amico, al mio nemico, io gli dirò, io ti perdono. Noi stiamo facendo quello che Dio fa con me. E quante volte abbiamo giustificazioni, scuse, motivi. Mi ha ucciso questo, mi ha derubato, mi ha fatto, mi ha detto, ha parlato male. Avremo decine di milioni di migliaia, di miliardi di scuse per non perdonare mai. Allora, si tratta di una sola cosa, fratello, sorella. O io mi lascio convertire dall'amore scandaloso di Dio che sempre mi perdona come sono fatto e io non sono giusto. Nessuno è giusto di fronte a Dio. Oppure, la mia fede è vana. La mia fede non vale nulla. Perché Gesù ha detto, da questo sapranno che voi siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. No, se andrete a messa la domenica, se farete le vostre preghiere, eccetera. quindi sull'amore, sul perdono si gioca la nostra vita. E da Matteo 18, Gesù fa questo discorso che è duro, non è facile, ma è facile se noi chiediamo ogni giorno a Dio di lasciarci convertire dal suo amore. ecco perché io so tante persone quando vengono a parlare con me si confessano e dicono padre io non riesco a perdonare, padre io non ce la faccio, io è troppo forte quello che mi ha fatto, non ce la faccio, non posso perdonare. Allora, se noi fissiamo lo sguardo su questo problema, su quello che mi hanno fatto, non riusciremo mai, perché stiamo ragionando a livello umano, secondo la carne e la carne non perdona ed è giusto così, tanto che nella giustizia sociale hai fatto qualcosa devi in qualche modo pagare, in qualche modo, altrimenti c'è il carcere, c'è la prigione, eccetera, eccetera. In Dio come cristiani c'è un'altra legge, la legge dello spirito, solo lo spirito santo mi fa agire come Dio agisce, ama, perdona, come Dio ha lavato i piedi a me in Gesù Cristo, così io laverò i piedi a coloro che mi fanno del male. Fratelli e sorelle, non è facile, Gesù lo ha detto che non è facile, ma Gesù ha detto lasciatevi convertire. Ecco perché all'inizio di Matteo 18 Gesù dice se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. In questo sta l'essere bambino, come il Padre ha amato me e mi perdona quotidianamente fino alla mia morte, tanto che Gesù è morto sulla croce per i miei peccati, così io devo perdonare. Però non lo faccio per un obbligo, per una prescrizione. attenzione, perché se noi puntiamo sempre e calchiamo la mano su questo aspetto devi perdonare, devi amare, non perdoneremo mai. È l'esperienza di amore che mi farà perdonare, che mi farà riempire la Chiesa. L'amore scandaloso di Dio mi converte, mi attira, mi fa innamorare di Dio perché è l'unico che mi sopporta come sono e che mi accogli come sono e quindi so che non è facile, so che ci sono esperienze dure, sofferenti e a volte Dio ci concede il tempo di perdonare, quindi chiediamolilo, ma chiediamoli più che la forza di perdonare, chiediamoli una nuova esperienza del suo amore, forse non l'abbiamo ancora fatta e oggi gliela chiediamo e che sia un amore che cambia il mio cuore, il nostro cuore e quando il mio cuore è cambiato sempre perdonerò, sempre sarò colui che prende l'iniziativa. Vieni Signore Gesù oggi, in questo giorno, nelle nostre vite, grazie per le parole che Tu ci hai donato in questo Vangelo. Sono molto dure, sono molto difficili e se noi, se io penso a coloro che mi hanno fatto del male, che hanno parlato male di me, anche della nostra comunità, della Chiesa, del Vangelo, Signore, è difficile perdonare, ma io voglio guardare a Te in questo giorno, lasciarmi amare, purificare, liberare da il male stesso che io ho compiuto e compio e che sia questo Tuo amore forte, potente, incredibile, scandaloso che mi converte, sia un amore che io possa trasmettere agli altri, Signore, perché l'esperienza che ho fatto non la posso tacere, l'esperienza del Tuo perdono, della Tua salvezza e la posso trasmettere agli altri e fa, Signore, di me e parlo come Luca, che io possa essere un modello, un esempio per la mia comunità, per i miei parocchiani, di colui che è sempre pronto ad amare, disponibile a perdonare, come Tu lo sei per me, Signore. E ti chiedo anche per tutti coloro che hanno difficoltà, hanno tanti motivi per non fare i primi passi, Signore, e concedi il Tuo Spirito Santo e concedi una forte esperienza della Tua misericordia affinché la stessa esperienza la facciano i nostri debitori. E come dice il Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo a tutti i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. A Te, Signore, l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, ho cercato di trasmettere ciò che Gesù oggi ci ha detto nella Sua parola. So che non è facile, però questo è il Vangelo. E come ha detto San Paolo, se voi avete conosciuto un altro Vangelo, non è il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo è il Vangelo dell'amore e del perdono. Non esistono altri. amiamo e perdoniamo. Questo è l'essere cristiani e la vera libertà. Buona giornata, fratelli e sorelle. A domani. Ciao. Verona, verona, E di gloria Sarai Casa di preghiera Non te vedi Perché Vanno attraverso il cuore Sarai Segno di unità E di gloria Sarai Casa di preghiera Non te vedi Perché Te parlo Atraverso il cuore